Sono rimasto colpito dai suoi occhi lucidi, perché questo significa non aver scordato, non aver dimenticato quei fatti tradici. E secondo me queste parole sono veramente importanti, dette e ripulzate, distanza di anni da una persona che le ha subite. Forse ancora più chiaro ed esaustivo potrebbe essere un breve filmato che noi abbiamo preparato chiedo alla vostra. Bisogna capire che questi andavano colpito se non sbagliavano mai, ma non che non sbagliavano mai perché avevano a che fare, dovevano andare a prendere l'ufficiale che era stato massacrato, erano persone, erano italiani, davano fastidio, un farmacista, il neturbino, bastava che avesse una piccola carne doveva sparire, doveva sparire quindi con il concetto maoista puniscine uno per addestrarne 100, è stato messo in atto con l'armo anticipo. Grazie.